Volevo raccontarvi un'altra delle storie che mi raccontava mio nonno. Non ve l'ho detto, ma mio nonno era del 1892, per cui queste sono storie piuttosto vecchie. Molte volte le storie venivano tramandate dalle famiglie, per cui nelle famiglie, diciamo, dello stesso ramo, molte volte si ritrovano, anche se magari non sono poi così tanto conosciute, come la gamba russa, ad esempio. Ecco, allora, vi radico in dialetto. Aghe era un paesano che era proprio bravo a fare l'urtene. Aghe era lì tutto il dia lavorato e veniva proprio una bella verdura, aghe era un'occa che era dentro anche i fiumi. Aghe era la gente che passava, si affermavano e gli dicevano, sì, ma ma l'è bella il tuo urtene. Ma davvero è che la verdura è così bella? Eh, ma fu. Alla uri, sto chiedendo lì all'urà, poi dopo, per al suo e per l'acqua, che pensa il signor. Andava che la sera, che era proprio contenta. Visendo lì, in una cassinetta piccina, abitava una persona che, a che era mai vedo da l'urà, era proprio in Lazaron, e l'era anche un luco, perché arrubava questi, altrimenti mi faceva mangiare. L'era un ladardo da cassinotti, insomma. Allora lì, tutti al dì, in cui, a la finestra, si è giù perché, in pezzo, faceva troppo fadiga, l'era Lazaron, che guardava a fare, e salvardava. Il guardava l'ultenda, che è il paesano lì. Il guardava dicevano, però, quello è un lavoro, una bestia. Ma, allora, sanno che dopo, a che la mangi mica, la verdura lì, perché era proprio bella, si si gaffò in giro, mi dimentica, l'urten lì, quanta ha bisogno. Ha dei propri spettacoli, io trovo. E tutti gli andavano avanti la storia. Il paesano allaurava, la verdura la cresceva, e il signor aggadava l'acqua e il su. Una nota, che era lì, una piena, E questi, ma, io non avevo amato da mangiare la cassola. La cassola che era, i punti da, pur c'è. Però, a che era molto diversa. E allora l'abbiamo pensato di andare in bagai, in dal casinotto, da quella, dal casinotto, in dall'urtenza, da quella. Però, che era la luna, ma dopo un po', la sennivarà. E la luna, alla s'avideva più. Era diventato un bel fusch. La decidì di tirare su una caretta che l'era trovata in giro, l'era un po' sgangherata, ma l'andava bene. Da trovare la caretta, andai dall'urten, da quel schi, e tirare su i vesca che serviva. Allora, c'è la caretta, e via che l'abbia in giro sentì. La caretta, però, era la riuscita tutta scena, intanto che la girava, sembrava che la diceva «Tacciaparran, tacciaparran, tacciaparran, tacciaparran». Lui, un po', un po', però, se stufigano, perfino una pesciata, la caretta. Che diceva «Oh, ma allora, tra la mucca lì, a te ora portare manca sfortuna, se stufigano, a te ora portare manca sfortuna». Però la caretta, la gira, a meggiore, è andata in nance, la faccia il fracassé lì fino a quando arrivò in dall'urtene. Tutto un po', che al paesano l'ha sentito, perché a meggiore la cusina dall'altra parte, dalla cà, le andrò a mangiare. Questi che andrò dentro tranquilli, in dall'urtene, le rascute scure, le vedevano, le tucano un po' da chiedere per capire le cose diverse, e dopo, le tuccavano, le tastavano, quei più seduri e mette a denti in dalla careta. Il paesano intanto era finito a mangiare e l'ha ben pensato ad andare su in stanza. Andare su in stanza perché il vuole adervi la finestra e guardare al suo urtino sotto alla luna. Però quando adervi la finestra, che era tu scurli, era dire quasi a c'era, sarà su insomma. Edrea sarà su. Sa sposta la nivara, bestia, l'urtino si illumina come che sa l'era dal dì. Una luce, l'era lì che guardava il suo urtino e vede anche i cosi che sa me e fissi ma. Sa che l'hai lì? Vabbè, segui un luca e le tre rubami i versi. Arrivi mi adesso, brui luca, a ciappi scioppa, vieni giù e ti spari, ciappa su scioppa, curgiù dalla scala, al valino dell'orto, a ti spari adesso, pum, a spare in l'aria. Quella, la ciappa è stramissima, si era più saganera in sacoccia, ciappa su la caretta con i versi e via, che va con questa caretta che la dondurava tutta, la ruota che l'andava più svelta ora. E la che diceva, talo dì, 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 la se c'è pa di burla giù i versi, la dove scappa in capo, perché il paesano è che è curioso, ad esempio di fai dalla porta, con la scioppa, l'aspettaccia arrivava ai guardi. Cos'è la mangiata per la cassola? No, anzi, adesso quando l'è in galera, l'ha tanto tempo per pensare, e quando portano pane e acqua per mangiare, non sempre nemmeno la cassola là, che non nemmeno proprio più di mangiare la sera là. E la che sta da bene. Va bene. Allora, ciao a tutti, e spero vi sia piaciuta la storia, e sosterrei alle vecchie, va bene. Ciao.